ciao a tutti benvenuto bentornati miei carissimi un po creativi in questo canale sono vincenze finalmente torniamo ai tutorial vorrei fare con voi una di quelle che si chiama mace guard sono praticamente mace significa labirinto sono delle tecniche di scrub booking per fare dei biglietti al labirinto ce ne sono di tantissimi tipi io vi voglio mostrare quella più che secondo me è la più semplice in maniera tale da fare come dico sempre io propongo le basi per poter fare qualcosa perché poi da lì si scatena una fantasia e potete creare qualsiasi cosa come al solito io con il cartoncino faccio quelle che si possono bene o male dire di me diciamo perché in questo modo posso crearne tante di diverso tipo e quando voglio quindi cominciamo serve del cartoncino colorato io ho scelto del cartoncino rosso del cartoncino bianco perché mi da mi piace molto la la differenza del del colore in questo periodo pre san valentino si potrebbero fare delle card appunto per san valentino per comodità del video per soprattutto per non farlo durare molto ho ritagliato i cartoncini deve essere uno di un colore uno di un altro colore con questa alternanza io già li ho anche chiusi proprio per non far durare tanto il video perché io sapete me ne accorgete anche nei video chiacchiere tipo questo di cui che vi metto qui la scheda e giù nel box vi metto il link diretto per quel video io quando inizio a parlare non la finisco più e parlo parlo e quindi insomma comunque bando alle ciance allora questa è l'alternanza dei colori quindi primo colore deve essere 3 per 6 cm secondo colore deve essere 4 per 8 cm poi primo colore di nuovo si primo colore 5 per 10 cm poi si ritorna al secondo colore 6 per 12 cm poi si ritorna al primo colore 7 per 14 cm si ritorna al secondo colore 8 per 16 cm e come ultimo si ritorna al primo colore che sarebbe un 18 per 9 cm fatto tutto questo chiudiamo a metà i nostri rettangoli quindi li mettiamo in ordine di grandezza per non confonderci prendiamo il primo potete utilizzare la colla semplice quella sticca o la colla vinilica io utilizzerò questa perché mi è più pratica allora quindi prendiamo il primo quella più grande con quella più piccola dobbiamo fare questo movimento in senso anti orario quindi mettiamo la colla e la mettiamo in questo modo deve esserci un po di spazio attorno lasciamo incollare poi prendiamo questa quella un po più piccola la dobbiamo mettere in questo modo quindi colla e così via con questa con questo modo continuiamo con questo penultimo ultimo questa come dicevo è la base per creare questa mace card così 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 e così voi regalate una card di questa o la mettete in un vostro lavoro di scrub booking e sarà sempre una sorpresa ora vedremo io poi l'abbellirò con questo cartoncino e si può ovviamente abbellire anche l'interno io poi vi mostrerò come l'abbellirò è una cosa carina perché potete mettere delle foto potete abbellirla come più vi piace potete mettere delle delle scritte delle delle poesie quindi faremo così apriamo così all'infinito quasi che ne pensate che ne pensate io credo che sia una cosa molto molto carina sia personale che per regalarla sarà sempre piena di affetto di gioia comunque grazie sempre per essere stati qui con me e alla prossima ciao a tutti i po creativi ciao con il cartoncino ho fatto delle aspetta ho scelto il il bianco quindi mettiamo la colla no serve un cartoncino aspetta 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 aspetta